Art Tech nasce nel 2015 a San Lorenzo Suntino ed è un laboratorio artigianale individuale che si occupa di incisione, marcatura e taglio laser. Art Tech sta per artigianato tecnologico in quanto oltre alle normali lavorazioni manuale mi avvalgo anche della moderna tecnologia laser per incidere e o tagliare materiali come l'alluminio, il plexiglass, il legno, il cuoio e tanti altri materiali. Io e mio marito proveniamo da famiglie di artigiani per cui per me è stato normale ad un certo punto mettermi in prima persona nel mondo dell'artigianato. All'inizio marcavamo elementi per altre aziende come ad esempio particolari meccanici. Poi pian piano abbiamo migliorato le nostre tecniche e abbiamo deciso di creare dei nostri prodotti da proporre ai clienti che poi loro potevano personalizzare. Abbiamo dato vita anche ad un negozio e-commerce dove vendiamo i nostri prodotti e creiamo anche delle bomboniere in legno, facciamo incisioni su calici di vino in vetro, su segnalibri, facciamo anche orecchini, penne, portachiavi, trovate tutto quanto sul nostro e-commerce. Io sono molto fiera del mio piccolo laboratorio artigianale e spero che nel futuro continui a crescere. La nostra azienda collabora anche con altri artigiani della zona, dando loro la possibilità di incidere i loro prodotti con la loro firma, così rendono anche il loro pezzo un pezzo unico. In questo caso parliamo di archi sportivi o calci da fucile. Adesso ci stiamo specializzando anche su cose un po' più di precisione, come ad esempio il taglio laser di pagine di libri fedeli all'originale. Il mondo dell'artigianato è bello proprio per questo, perché con il lavoro manuale o come in questo caso con l'utilizzo anche del laser, si riesce a realizzare proprio quello che il cliente ha in mente e quindi gli diamo quella emozione che solo un prodotto artigianale personalizzato può dare. Mi chiamo Cinzia Merlo, orgogliosa di essere artigiana.